Una giornata a scuola con Alessandro Palmerini, uno dei fonici e tecnici del suono di presa diretta italiani più stimati e noti nel mondo del cinema. Nella sua paganica ha incontrato i ragazzi delle medie della Celestino V dell'indirizzo musicale. Palmerini si è formato all'Aquila nell'Accademia dell'Immagine per proseguire nell'ambito generale dell'audiovisivo in vari ruoli. Dopo la specializzazione di tecnico del suono di presa diretta, ha iniziato le sue esperienze con grandi registi. Un palmarès di tutto il rispetto, il suo con due Davide di Donatello e altri riconoscimenti, il primo con Diaz nel 2013 e il secondo dieci anni dopo per le otto montagne. Una produzione internazionale tratta dal romanzo di Paolo Cognetti, premio strega nel 2017 e la conoscenza delle montagne aquilane, lo ha aiutato molto a interpretare il silenzio della montagna nel film. Devo dire che ha influito anche molto, credo. Innanzitutto nella scelta probabilmente che ha fatto sì che i registi della produzione scegliessero di avere me piuttosto che altri colleghi che comunque avevano interpellato per la cosa. Forse perché comunque avevo un bagaglio di alpinismo alle spalle. Sono cresciuto, sono vissuto in montagna, ho vissuto la montagna, la conosco. Ho frequentato anche parte dei posti dove siamo stati, non la Val d'Aosta ma ad esempio in Nepal, c'ero stato 19 anni prima. Un'esperienza unica per gli studenti, un'occasione di conoscenza della straordinaria forza comunicativa ed emozionale del cinema con il suo fantastico mondo sonoro, con gli occhi di chi la vive e la crea dall'interno. Ma per gli studenti anche un messaggio educativo notevole, ogni grande soddisfazione è frutto di tanto impegno e forza di volontà unita alla passione. Ci onora e ci fa piacere di avere Palmerini, un illustre paganichese, ospite della nostra scuola. Offre un esempio agli studenti di eccellenza, di studio che attraverso lo studio porta ad avere successo, porta a posizioni di grande prestigio. Ha frequentato inoltre la prestigiosa Accademia dell'Immagine Aquilana, quindi studio aquilani, illustre aquilano e un esempio positivo per tutti gli alunni. Grazie a tutti.